Buona giornata, nuova edizione del TV giornale di Telestense di questo martedì 31 gennaio. Tante come sempre le notizie, parleremo di agricoltura, in particolare dei rincari denunciati da Coldiretti, più 23% dei costi che influiscono sui campi e anche sulla spesa e sempre rimanendo in ambito agricolo, parleremo anche del problema legato alla siccità perché ci sono preoccupazioni da parte del Consorzio Bonifica di Ferrara per quello che saranno i mesi di primavera ed estate. Ci occuperemo di Covid, di centri vaccinali aperti a settimane alterne in provincia, vedremo appunto quelle che saranno le nuove date e poi il caso Betlem, la casa di riposo che da domani, primo febbraio, passerà in gestione a Cop Serena. Ci occuperemo anche di solidarietà, Fiscaia per Teleton, donati oltre 6 mila euro appunto all'associazione e poi tanto spazio allo sport, come sapete oggi è l'ultimo giorno di mercato, ma ieri è stata ufficializzata appunto la presenza di Nainggolan nella Spalse, ne è parlato peraltro ieri sera nel corso di Lunedì Sport. Cominciamo subito però da un'ultima ora di politica che è arrivata proprio questa mattina, anticipa un appuntamento di lunedì 6 febbraio quando alle 20 presso il ristorante Le Querce al Cus di Ferrara ci sarà un'iniziativa pubblica in cui Stefano Bonaccini presenterà le sue proposte per il rilancio del Partito Democratico. In particolare i promotori dei comitati Bonaccini dichiarano questo non è un congresso come gli altri, è un passaggio fondamentale e stretto per salvare e rilanciare il PD, cosa di cui noi e il Paese abbiamo bisogno. I comitati tra l'altro aggiungono che per questo siamo convinti che ci sia una proposta in campo, che più di altre le capacità, le qualità e le idee giuste per raggiungere questo obiettivo e quindi sostengono il candidato che è attualmente ancora presidente della Regione Emilia-Romagna. L'iniziativa di lunedì prossimo comincerà con una pericena, seguiranno alcuni interventi da parte dei referenti del comitato organizzatore e terminare con l'intervento del candidato alla segreteria nazionale del PD, Stefano Bonaccini. Adesso invece parliamo di agricoltura, i rincari energetici hanno influito anche nei costi di produzione delle aziende agricole e a sostenerlo è col diretti. Vediamo. Per effetto dei rincari energetici i costi di produzione delle aziende agricole nel 2022 sono aumentati del 23,1% con un impatto devastante sui bilanci e sulla spesa dei consumatori. È quanto afferma l'Accol di Retti sulla base della stima preliminare dei conti economici dell'agricoltura dell'Istat. Durante l'anno, sottolinea l'Accol di Retti, sono aumentati sensibilmente i prezzi dei prodotti acquistati degli agricoltori con un più 23,6%, con balzi che riguardano i fertilizzanti, più 63,4%, i prodotti energetici, più 49,7% e gli alimenti per animali, più 25,1%, secondo l'Istat. L'incremento dei costi si è ampliato e consolidato nel corso del 2022 in buona parte, precisa l'Accol di Retti, per le conseguenze del conflitto in atto in Ucraina che ha prodotto una forte instabilità dei mercati internazionali delle materie prime agricole e dei prodotti energetici. Il risultato è che in controtendenza rispetto all'andamento generale, sono calate le imprese in agricoltura nel 2022 con un saldo negativo di meno 3.363 realtà, proprio per effetto del mix micidiale dell'aumento dei costi e del cambiamento climatico che ha decimato i raccolti, secondo l'analisi dei raccol di Retti e sulla base dei dati Movi Imprese elaborati da Union Camere. E c'è una forte preoccupazione per i prossimi mesi, in particolare per la primavera e l'estate, c'è ancora rischio e siccità come è stato del resto nel 2022. Sono le preoccupazioni del Consorzio Bonifica di Ferrara, anche di questo tra l'altro si parlerà proprio questa sera nella puntata di Con i piedi per terra, a partire dalle 21.30, anzi domani sera, chiedo scusa, mercoledì 1 febbraio alle 21.30. Ne sentiamo dunque un'anticipazione con le preoccupazioni del Presidente del Consorzio Calderoni. Vediamo. Il problema della siccità del 2022 potrebbe presentarsi anche per l'estate del 2023? Avete dei segnali che possono un po' allarmare oppure qual è la situazione? Ma c'è da dire ovviamente che c'è un grande problema ancora di invaso dei grandi laghi del nord. Purtroppo le scarsità di piogge insomma non ci hanno permesso con le nevicate di questi giorni e con le piogge al mese di dicembre di recuperare il gap che in qualche modo si era determinato nel 2022. Quindi è chiaro che stiamo osservando con grande preoccupazione la speranza ovviamente che si possa recuperare in parte diciamo quello che abbiamo perduto in termini di risorsa idrica lo scorso anno. È chiaro che la situazione per noi va monitorata di giorno in giorno. La cosa importante è che noi comunque abbiamo detto e richiesto ovviamente che ci sia una cabina di regia che lavori, che operi nell'ambito di quello che è la sicurezza del territorio da un lato ma anche per riuscire a distribuire la risorsa acqua nei mesi che saranno inevitabilmente più difficili. C'è una riflessione anche rispetto al fatto che possa essere nominato un commissario ad hoc proprio per gestire le risorse che sono un bene fondamentale che vanno utilizzate con assoluta parsimonia. Quindi l'attenzione che noi stiamo avendo è di continuare a monitorare. Chiaro che al di là della neve, al di là del freddo che ci dà un po' di coraggio, la situazione purtroppo non è una situazione di normalità. Continuiamo ad avere un deficit idrico importante soprattutto per quanto riguarda le falde che è uno diciamo di quegli elementi che ci permette di capire lo stato di salute del territorio. Oggi ancora abbiamo un deficit idrico superiore al 50% quindi è chiaro che è ancora tanta la strada da fare. E dunque appuntamento con l'intervista integrale domani sera a 21.30 su Telestense. Adesso invece parliamo di Covid. Ci sono novità per quanto concerne l'apertura dei centri vaccinali. I dettagli li vediamo nel servizio. L'azienda USL di Ferrara riprogramma la campagna di vaccinazione contro il Covid per quanto riguarda giorni e orari di apertura dei centri vaccinali attivi sul territorio per i mesi di febbraio e marzo. Lo rende noto un comunicato. Considerati i dati di accesso delle ultime settimane si legge e al fine di ottimizzare risorse professionali anche per attività extra Covid, l'attività viene rimodulata con un'apertura a settimana alterne dei centri vaccinali in provincia, mentre la sede a Ferrara in Cittadella San Rocco mantiene tre giornate di apertura settimanali. L'Ausl recepisce anche la recente circolare ministeriale con cui viene estesa la raccomandazione della dose di richiamo ai bambini nella fascia d'età 5-11 anni compresi che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe da infezione da SARS-CoV-2. Il richiamo potrà essere disponibile anche per i bambini della stessa fascia d'età che non presentino tali condizioni su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale. Via libera alla terza dose quindi a condizione che sia trascorso un intervallo di almeno tre mesi dalla dose precedente e che si compili il modulo sul portale di autocandidatura. L'azienda ricorda che è opportuno prenotare la vaccinazione Covid e che è possibile farlo presso tutti gli esportelli dei CUP online col fascicolo sanitario elettronico con l'app ER Salute CUP Web o presso le farmacie. Si ricorda inoltre che è possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia qualora abbia aderito alla campagna vaccinale concordando direttamente con lui le modalità. Vi è infine la possibilità di vaccinarsi ad accesso diretto presso il centro vaccinale in San Rocco e nelle altre sedi vaccinali sul territorio. E adesso parliamo della casa di riposo Betlem che passa dall'opera della diocesi di Ferrara alla cooperativa Serena. Se ne è parlato molto nelle scorse settimane, non sono mancate anche polemiche a riguardo ma il tutto, il passaggio ufficiale avverrà da domani quindi primo febbraio. Vediamo il servizio. Vicenda a Betlem dal primo febbraio mercoledì. La gestione della casa di riposo passerà a COP Serena cooperativa che da oltre 35 anni opera anche nel territorio ferrarese. Si occupa di strutture, gestione di servizi per anziani. Dopo decenni di attività di fondazione opera, emanazione della diocesi di Ferrara, COP Serena subentra così nella gestione di una struttura a forte connotazione religiosa, così come avvenuto due anni fa nella Cracapatti di Serravalle. La decisione da parte della Curia, come riferito dai sindacati, sarebbe maturata dopo la decisione da parte della diocesi di tagliare i costi della fondazione opera, fondi da destinare ad altri progetti. La preoccupazione da parte dell'ente ecclesiale era di mantenere la stessa qualità di servizio. Individuata poi in COP Serena, venne detto dalla diocesi alle sigle, che in più occasioni hanno ribadito di non avere problemi di relazioni sindacali con la cooperativa. La loro preoccupazione, seppur con vedute diverse tra CGL e Cisle Will, era riferita al rischio licenziamenti e un eventuale peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, abbiamo incontrato tutti i dipendenti appena è stato possibile nel rispetto della trattativa sindacale, dicono dai vertici della cooperativa, che aggiungono. Verrà mantenuta la retribuzione annua all'orda dei dipendenti. COP Serena, che avrebbe condiviso con i familiari degli ospiti anche alcune proposte di miglioramento del servizio, come il ripristino della palestra e delle attività motorie sulle rette, continuano da COP Serena. La previsione è di mantenerle inalterate ed assorbire nei primi quattro mesi l'IVA al 5%, poiché le cooperative sociali aggiungono, a differenza delle fondazioni, la devono applicare. Adesso invece parliamo di solidarietà. C'è stata un'iniziativa benefica di Fiscaglia a sostegno di Teleton. Il sabato scorso sono stati consegnati oltre 6 mila euro al referente provinciale Claudio Benvenuti. Abbiamo ripercorso questa vicenda appunto con il referente di Fiscaglia per Teleton, Mario Pozzati. Sentiamo. Oltre 6 mila euro a sostegno di Teleton. L'assegno è stato consegnato al referente provinciale Claudio Benvenuti da parte delle associazioni che nel mese di dicembre hanno aderito al progetto Fiscaglia per Teleton, alla presenza tra gli altri del sindaco Fabio Tosi. Mario Pozzati, referente Teleton per Fiscaglia, ci ha spiegato come si è sviluppata l'iniziativa. Il contributo che abbiamo versato sono 6.282 euro ed è un contributo che ne siamo veramente orgogliosi. Deriva proprio da un progetto che ormai da diversi anni vogliamo portare avanti a Fiscaglia e infatti tutto l'evento si chiama Fiscaglia per Teleton. Fiscaglia per Teleton ha coinvolto diverse associazioni. Si tratta di Il Volano, naturalmente di Migliarino, che è un'associazione culturale che fa un po' da capoprogetto e capofila di cui io faccio parte. Poi abbiamo l'Avis di Massa Fiscaglia, l'Aus di Migliaro e Massa Fiscaglia, la Proloco Migliaro, Massa Fiscaglia e Migliarino, il Padel e il Ghiandaio di Massa Fiscaglia, Aritmo Migliarino, Casa Riposo, stranissima questa cosa, Don Tampieri di Migliaro e quindi grazie all'insieme di tutte queste associazioni siamo riusciti a mettere insieme un progetto che andava a trasportarsi su quattro giornate, quelle che abbiamo realizzato a dicembre, praticamente durante l'evento Teleton nazionale che si sviluppava nel fine settimana del 17-18 dicembre. È stato bello proprio perché mettendo insieme un po' tutte queste associazioni sono nati anche diversi eventi, ognuno diverso dall'altro, quindi siamo passati dallo sport agli spettacoli, ai pranzi o alle cene. Ho citato prima la Don Tampieri che è la casa di cura che si trova per anziani che si trova a Migliaro che grazie ai nonni che aderivano all'acquisto dei famosi cuori di cioccolato, potevamo dare un contributo. Il bello è proprio questo, che siamo riusciti a spaziare su diverse cose e alla fine abbiamo portato a casa questo contributo. Adesso invece apriamo un'ampia pagina sportiva, come sapete oggi è l'ultimo giorno di mercato per quello che riguarda l'ambito calcistico, ma ieri il colpaccio della SPAL è arrivato con Raja Nainggolan, allora intanto prima di sentire anche un intervento dell'ex mister Semplici sentiamo una scheda che riassume l'arrivo di questo giocatore. Ora non ci sono più dubbi, Raja Nainggolan è ufficialmente un giocatore della SPAL. Superate senza alcun problema test e visite mediche, ha firmato il contratto che la società ferrarese ha depositato in Lega. Accordo fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico in caso di promozione. L'esperto centrocampista belga, se De Rossi lo riterrà opportuno, potrà quindi essere utilizzato nella gara in programma sabato alle 14 al Paolo Mazza con il Bari. Indosserà la maglia 44. Nel frattempo, tra le tante voci che circolano in queste ultime ore frenetiche di mercato, il forte interesse della regina e anche della Sampdoria per l'amantia. Intanto proprio ieri sera è stato ospite di lunedì sport in collegamento anche Leonardo Semplici, ex mister della SPAL, ma anche del Cagliari dove appunto ha giocato Nainggolan, è stato intervistato da Alessandro Sovrani. Ne sentiamo dunque un estratto in questo servizio. è un giocatore di grande valore, un giocatore che con la categoria non c'entra niente. È chiaro che viene da un periodo di inattività, dovrà rimettersi al passo con gli altri, ma conoscendo le potenzialità di questo ragazzo credo che ci possa mettere anche il giusto per poter rientrare nella maniera giusta. Penso e mi auguro che lui sia venuto con quella che è l'ambizione di questa società, ma soprattutto per il rapporto che ha con l'allenatore che lo conosce obiettivamente meglio di me e credo che senza un bel dubbio si allenerà nella giusta maniera possa dare veramente un apporto determinante per gli obiettivi della SPAL. Qual è stato il tuo rapporto con Nainggolan? Hai avuto qualche problema? Hai avuto qualche difficoltà lui con il gruppo? Assolutamente no. Il ragazzo per me nei quattro mesi sono stato a Cagliari di grande disponibilità, grande professionista, giocatore forse il giocatore più bravo, più forte che ho mai allenato perché oltre ad avere una personalità importante, un giocatore nella sua carriera ha dimostrato grande valore disputando dei campionati veramente importanti e quindi in quella mia esperienza è stato poi determinante per il raggiungimento di quella salvezza e al mio arrivo sembrava impossibile. Lui è stato uno di quei giocatori che mi ha dato di più e con cui ho instaurato un rapporto straordinario e tutt'oggi ci sentiamo, anzi appena ho saputo ho mandato un messaggio di bocca al lupo e penso veramente sia il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti della SPAL e non solo, vedo proprio del campionato di Serie B e mi auguro veramente che lui possa dare quell'apporto che tutti si aspettano da lui. Questo è dunque un estratto dal lunedì sport di ieri sera ma ieri sera è andato in onda anche Basketin dove si è commentata la sconfitta del club di domenica scorsa, il club ricordiamo ha perso in casa contro Ravenna 72, anzi 75 e 82 e in particolare sentiamo il commento di coach Spiroleca. Bravi fino al 35esimo, portando nel momento giusto più avanti, stando 10 più 10 più 13 e lì la gestione è un po' di stanchezza perché siamo andati a livello di scelte, c'è poco da recriminare, siamo andati 5 volte sotto, cercheremo di analizzare ma c'è poco da dire. Le scelte sono state giuste perché andiamo in post basso con quello che stava più in palla e lì abbiamo fatto un 0-5 da sotto, peccato, loro spalle al muro, all'arembaggio, niente da perdere, hanno trovato quei due bombe per qualche nostra disattenzione anche perché se fai palle perse partono 3 contro 1, segna con facilità, 24 punti dalle palle perse, alcuni erano nell'ultimo quarto. Mi viene in mente adesso una penetrazione dal fondo di Bertetti, per dare la palla al Campani, prendono la loro palla e contro il piede le app e questo è ramarico, partita in ghiaccio nel senso che sembrava già fatto quello che serviva e per cui siamo ramaricati, delusi, incavolati perché usciamo a testa bassa e rovinando tutto negli ultimi 5 minuti, non è la prima volta, purtroppo qualche limite ce l'abbiamo e lo sappiamo, oggi abbiamo perso una bella occasione perché ha perso sia Mantova che chiusi e poteva essere un'occasione di rimanere a più quattro, così complichiamo troppo la vita e niente, c'è poco da recriminare. Sono contento per i ragazzi, per il fatto che stanno dimostrando comunque anche nei momenti di difficoltà, di risolvere la difficoltà tecnica restando uniti, poi qualche volta come oggi può riuscire di tornare avanti, qualche volta non c'è riuscito però questa cosa la stiamo portando avanti in tutte le partite per più minuti e la portiamo a casa insieme a due punti importantissimi, sappiamo che c'è tanto da lavorare perché comunque alla fine forse siamo stati la squadra non che ha fatto meglio ma che ha sbagliato meno, però ci portiamo a casa anche questo perché naturalmente nella palacanestro fa parte del gioco e come ho detto ai ragazzi tante volte in cui certi episodi non sono mai casuali, nel bene e nel male, quindi stasera gli episodi sono andati nel bene per un grande lavoro difensivo finale e quindi ce lo siamo meritato. Risultato invece nettamente positivo per Cento che ha battuto Cividale 78-60, anche in questo caso sentiamo il commento del coach. C'è da fare complimenti ai ragazzi che hanno giocato una partita di grandissima maturità e di grandissima disciplina sia in difesa ma anche in attacco perché comunque abbiamo sempre reagito molto bene ai cambi di difesa di Cividale che ha provato diversi assetti, però come ho detto alla squadra veramente bella partita perché c'è tanti modi di vincere, noi quest'anno fortunatamente vinciamo spesso, però oggi secondo me abbiamo giocato anche una bella pallacanestro piacevole, aiutata anche sicuramente dalle medie da tre punti, però vado a memoria ho negli occhi veramente pochi tiri forzati e quasi sempre tiri molto ben costruiti con la squadra che si cercava, quindi adesso è inutile nascondersi, siamo in un buon momento, credo sia la nona vittoria nelle ultime dieci partite, la decima nell'ultima undici se consideriamo il quarto di finale di Coppa Italia, adesso dobbiamo solamente pensare a continuare a migliorarci con il lavoro. Non era una partita facile per niente come ogni domenica, però abbiamo seguito il piano partita soprattutto in difesa, abbiamo lasciato l'ora 60 punti, quindi era importante vincere e è andata bene così. Grande entusiasmo dunque a cento, noi con questa notizia terminiamo il nostro tv giornale, vi ricordo aggiornamenti su telestenso.it e sui nostri canali social, mentre invece la prossima edizione non è andata in onda come sempre questa sera alle 19.30. Grazie come sempre per averci seguito e quindi appuntamento rinnovato alla prossima edizione.